Il mio angioletto salverà tante vite, così aveva detto la mamma del piccolo Gianluca dopo la decisione di donare gli organi del suo bambino, ucciso con un colpo alla testa dal papà poliziotto che poi ha deciso di farla finita. E così è stato. Tante le vite sospese che hanno trovato l'aiuto del piccolo Angelo. Sono stati infatti cinque i trapianti eseguiti ieri grazie a Gianluca. Dal labirinto della malattia alla luce della speranza, il suo piccolo corpo ha dato il fegato a un bambino di quattro anni a Bergamo, mentre i polmoni sono stati il dono inaspettato a Padova per un ragazzo di 15 anni affetto da fibrosicistica. Il cuore lo ha ricevuto invece un bambino di 9 anni, ricoverato da un anno e da circa 8 mesi attaccato ad una macchina che pompa artificialmente il suo cuore. I reni infine hanno salvato due ragazzi di 12 anni, uno di Biella e l'altro di Roma. Alla fine il sacrificio di Gianluca ha sconfitto la morte che in maniera così assurda se l'è portato via, ridando alla vita altre cinque giovani vite nel cui orizzonte il sole sembrava davvero troppo lontano.